Ha ragione il presidente Campitelli, che tra una lacrima e l'altra si lascia sfuggire una frase che per uno scaramantico come lui dovrebbe essere tabù. Stiamo facendo un sogno che noi, nessuno, abbiamo mai minimamente sfiorato questo sogno, quindi dobbiamo esserne felici tutti, speriamo che succeda il più presto possibile. Già, prima si arriva al traguardo e meglio è, perché da ieri, bando alla scaramanzia, il Teramo ha un piede in Serie B. Cinque punti di vantaggio con cinque partite da giocare, visti con il distacco di chi non è emotivamente coinvolto, sono un'enormità. Adesso sì che solo il Teramo può perderlo questo campionato, ma con un ascol in ginocchio sarebbe un'impresa ardua. La squadra di Vivarini ha invece le ali ai piedi, ne è la testimonianza di come ieri ha battuto una squadra scorbutica, tosta come il tutto cuoio, che non ha regalato nulla. Il Teramo ha corso fino alla fine, senza sentire la fatica, segno questo di una condizione atletica invidiabile. Chiaro che qualcuno il ruolo di pompiere lo debba ricoprire e questa volta è toccato a Marcello Di Giuseppe, che attraverso calcoli matematici e incroci complicati vuole tenere tutti sulla corda, o almeno ci prova. Resettiamo un po' tutto perché nella nostra testa i punti di vantaggio sono due, mancano quattro partite, perché comunque l'ultimo è un bonus che effettivamente in questo momento è un bonus a favore dell'Ascoli, perché la realtà è questa, quindi noi dobbiamo essere bravi in queste quattro partite a conservare i due punti di vantaggio. Quindi il nostro modo di vedere le cose è leggermente diverso, siamo tutti felicissimi, l'euforia è giusto che ci sia, oggi è una giornata importante, però la realtà è questa. Mancano quattro partite e abbiamo due punti di vantaggio e questo è il messaggio che assolutamente deve passare. Ma la commozione del presidente Campitelli la dice lunga, gli abbracci nel corridoio della sala stampa fanno capire che anche il numero uno bianco-rosso ha capito che nessuno può togliere al Teramo e ai suoi tifosi un appuntamento con la storia che sembrerebbe già scritto. Lo reclamano 102 anni di storia e una città che dopo aver conosciuto l'inferno calcistico vede a portata di mano un paradiso che non può più attendere.